Buon pomeriggio a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia della professoressa Anna Ciampolillo, specialista in endocrinologia. Parleremo quindi della tiroide in gravidanza. Buon pomeriggio professoressa, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buon pomeriggio, parleremo di questo problema che spesso affligge le donne gravide che scoprono nei primissimi mesi di gravidanza di soffrire di qualche patologia tiroidea. Un piccolo cappello. La tiroide è una ghiandola preposta al funzionamento di tutte le nostre attività principali. Potremmo considerarla la benzina del nostro organismo, quindi in una situazione come quella gravidica in cui tutto corre di più, come si diceva in maniera grossolana, bisogna mangiare per due, errore questo, lavorare per due, la tiroide viene messa un pochino sotto stress. Quindi se si hanno anche delle patologie di lievissimo impatto in una situazione di onormalità, con la gravidanza queste patologie tiroidee possono essere inspecarsi. Per cui occorre controllare la funzionalità tiroidea all'inizio, nei primissimi mesi della gravidanza. Proprio perché questa ghiandola, anche se piccolina, posta nella parte anteriore del collo di un peso infinitesimo, 20-25 grammi, è una ghiandola che come ho cercato di, in maniera molto grossolana di farvi capire, è una ghiandola importantissima per qualsiasi tipo di funzione vitale. Perfetto e quindi perché è importante controllare la funzionalità tiroidea durante la gravidanza? È importante controllare la funzionalità tiroidea durante la gravidanza e ricordo durante le prime settimane di gravidanza perché, come ho detto precedentemente, la tiroide viene messa sotto stress durante questo periodo particolare e se non c'è un quantitativo giusto di ormone tiroideo, i processi vitali, lo sviluppo cerebrale del feto non potranno avvenire nella maniera migliore. E le disfunzioni tiroidee sono ereditarie? Le disfunzioni tiroidee si legge a volte che sono ereditarie. Non è del tutto sbagliato dire così, però quello che vi sembra più opportuno invece dire è che le malattie tiroidee hanno una predisposizione genetica, per cui specialmente nelle donne che hanno nella famiglia qualcuno che ha sofferto, una nonna, una zia, una mamma di patologie tiroidee, queste donne dovranno controllare più delle altre la funzionalità tiroidea. Al di là della gravidanza anche durante le varie fasi della vita, gravidanza sicuramente molto di più perché c'è una predisposizione genetica, cosa vuol dire? Che è più facile rispetto a donne che non hanno una predisposizione genetica acquisire delle malattie tiroidee, quindi non è detto che se una mamma ha avuto un problema tiroideo la figlia lo debba avere necessariamente, però c'è una probabilità molto alta che le abbia. E quindi come prevenire queste disfunzioni della tiroide in gravidanza? È difficile poterle prevenire. Quello che si consiglia e che consigliano moltissimo anche i ginecologi è che quando si pensa di affrontare, di mettere al mondo un figlio, nei mesi precedenti si possano fare dei controlli durante il periodo dei tentativi gravidici, diciamo così, dei controlli ormonali tiroidei per verificare che non ci siano problemi subclinici che non sono stati evidenziati durante quel periodo proprio perché subclinici quindi senza grande sintomatologia e che sicuramente si potranno estrinsecare durante la gravidanza. Poi l'altro consiglio è di fare in modo che ci sia un adeguato controllo iodico nella alimentazione. Noi abbiamo una legge di cui molti non sanno che ci obbliga all'uso del sale iodato perché siccome lo iodio non è contenuto in tutti gli alimenti, è contenuto principalmente del pesce e non tutti mangiano tanto pesce, l'uso del sale iodato ci permette un introito di iodio valido. Naturalmente se noi introduciamo un quantitativo idoneo di iodio siamo anche in grado di produrre un quantitativo giusto di ormone tiroideo. In più durante la gravidanza c'è una perdita fisiologica di iodio con le urine per cui è sempre più difficile sintetizzare ormone tiroideo. Per questo il consiglio se vogliamo parlare di prevenzione anche se non completamente in maniera appropriata l'utilizzo del sale iodato prima della gravidanza e durante la gravidanza rappresenta un modo per aiutare la tiroide già stressata dalla gravidanza di aiutare la tiroide a produrre un quantitativo idoneo di ormone tiroideo. E quindi professoressa quali trattamenti vengono impiegati per curare le disfunzioni della tiroide in gravidanza? Esistono dei trattamenti medici da utilizzare durante la gravidanza senza che questo possa creare un problema per le gravide. Generalmente delle gravide c'è paura ad assumere qualsiasi tipo di farmaco e ci tengo a precisare che la disfunzione tiroidea in gravidanza va assolutamente curata sia con l'ormone tiroideo nel caso ci sia una ipofunzione della tiroide sia con dei farmaci antitiroidei nel caso ci sia una iperfunzione della tiroide perché non fare queste terapie significa mettere a rischio la normale continuità della gravidanza. Quindi sfatiamo questo dubbio che è quello di dire dottore ho paura a prendere il farmaco potrà fare male al bambino. Farà male al bambino non l'assunzione del farmaco perché per la buona funzionalità cerebrale di tutti gli organi del feto occorre che il quantitativo di ormone tiroideo sia assolutamente normale. Se questo non c'è per una disfunzione tiroidea che ahimè non abbiamo potuto prevenire perché era talmente subclinica che non era stata evidenziata prima della gravidanza e lo scopriamo durante la gravidanza dobbiamo intervenire con i farmaci che non sono particolarmente non sono deleteri per il nascituro e il non utilizzo del farmaco che potrebbe creare dei danni maggiori. Perfetto grazie mille professoressa vuole aggiungere qualcos'altro? Vorrei aggiungere solamente di non preoccuparsi perché ci sono donne che scoprono di avere un problema tiroideo all'inizio della gravidanza è molto comune e quando vanno sul web la prima cosa che trovano ipotiroidismo deficit intellettivo del feto e queste sono sono un po' aneddoti non è proprio così e quindi vorrei tranquillizzarle in modo da non farle affrontare la gravidanza in uno stato di ansia per la paura che il feto possa non avere una una intelligenza normale è vero che può succedere però sono dei casi limite quelle in cui il cosente intellettivo delle donne che affrontano delle gravidanze in ipotiroidismo molto molto marcato sono situazioni limite che è molto difficile che si possano verificare se noi valutiamo quel famoso TSH all'inizio della gravidanza quindi tranquillità è tutto molto maneggevole bisogna rivolgersi al proprio ginecologo che nella stragrande maggioranza dei casi rimanda l'endocrinologo. Perfetto grazie mille per il suo interessante intervento approfitto per ricordare i nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina o una visita presenziale con la professoressa Anna Ciampolillo attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille professoressa. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.